bene a tutti ragazzi è venuto in questo nuovo video oggi siamo tornati su mad max e niente ok andiamo mettami in un garage ovunque ti trovi ti lascio pausa metterlo prima il magnum ok vai come esploratore ho già niente per aumentare il danno all'esploramento frontale allora allora ho capito ora cosa dovevo fare quindi no 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 fa ancora è difficile la mia mira no 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 non te ne andare via 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 falco ah è uscito dal veicolo come cazzo si esce dal veicolo merda merda ricordo di seguirmi nei miei social tutto in descrizione instagram facebook telegram twitter quello che volete tutto in descrizione e niente spero che questi video vi siano piacenti il mio ritorno su a settembre vai via ok ok eccola no come l'avevo fatto a prenderlo sono come cazzo via missione storia completata ok ok tini blu dovremmo tornare indietro il mio suo attuario il mio gruppo del avvenzamento max è stato sbloccato ok qui può venzare a quell'ultimo momento va bene ragazzi qui perciò il nostro max ok novità vediamo nessuna giacca ok figo che fisico cioè un fisico altro che qualcuno altro che merluzzo qua abbiamo max fuck you sponcete al video di Call of Duty di tempo fa di di quant'era di agosto perché con 20 like riaprirà il dono riaprirà il cioè il nostro caro dono riaprirà il canaletto vai allora il canaletto sempre un po' brutto da dire però sembra che ha un canale dell'acqua però vabbè allora così si corre come cazzo si correva non mi ricordo ok ma dovevo x vai che fai ciacca eh c'è che fai c'è c'è Sì Dove? Ok Che cazzo? WTF Ah se il bombo è qua Vai Andiamoci No il tabernacolo di Chunk No Raga ma che cazzo Raga ma che cazzo Bocca Bastardi Bastardi Qua no c'è un problema Qua no c'è un problema Qua no c'è un problema Una cazzo è lunga Oh madonna Ok Oh madonna Sono arrivati è ne lunga Qua no cazzo Allora Allora Qua no cazzo Qua no cazzo Qua no cazzo E noi siamo dei tipi di sanità! E se vi lasciate qui, come siete! Lei ma? Me. Mi aiutere! Sigi! Top... Cazzo di Chango! Cazzo di chanke. Buono. Dove dovrei andare? Ok, devo salire, mi sembra. Sì, devo salire. Sì, devo salire. Bene, sono già scordato come si sale. Sì. Gabbere Kill lui Sawi Muttman in the head Let us tear him La proposition I'll wake them in the next man You gotta See if he is in the next one Boo Not a good idiot And then Just Hehehehehe Sì il cazzo his hand il cazzo his hand bene dottorio ok allora poi meccanismo per il grilletto ok dove in sé devo parire non so cosa c'entra il cicchino ora però vabbè c'è l'attenzione da fare quest'altro si eccolo raccoglie preghiamo ok vabbè selezionato di fucile e una cecchina risulta max raccolta il meccanismo per i grilletti abbastanza di rottali 40 madonna minca sta a spiegare tutti i miei rottali ok ora dov'è escire la fortezza ma che mira ah ok devo sparare lì figata raga ma che gioco è ok sembrano vabbè la walk bar ok devo andare al passo della morte l'andena è la morte da quel cazzo si dice mi sono già scoperto di lui ma cazzo ma questo è andato pure posso venire qua vabbè vabbè allora oddio devo passare di qua minchia raga è lontanissimo comunque si è lontanissimo madonna se questa parte qua la taglierò piccola ma ma porco porco e niente raga non io ci provo dopo cioè ci provo al prossimo episodio e niente spero che questo episodio vi sia piaciuto lasciate like iscrivetevi e vi ricordo di condividere questo video agli altri vostri amici perché almeno siamo per raggiungere i 150 e niente così vi porterò una speciale figo molto figo sempre se più riuscirò e niente raga noi ci vediamo al prossimo video bene vai you ciao